Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere venuti qua a questo momento di approfondimento. Non so quanti di voi si sono interessati alle modifiche legislative che da dicembre ad oggi hanno portato le province ad essere alla ribalta, nel senso che nel dicembre del 2011 con il decreto Salve Italia all'improvviso le province vengono private della loro funzione politica, vengono considerate solamente organi di indirizzo e vengono di fatto eliminate così come le conosciamo ad oggi. Oggi con il decreto sulla spendi review, sulla revisione della spesa, vengono in un certo senso riabilitate attraverso un accorpamento tra le province più piccole e per le città capoluogo di provincia viene prevista l'area metropolitana. Visto che noi siamo in questa seconda ipotesi, oggi qua discutiamo su che cosa si intende per area metropolitana. Sarebbe stato più facile se il decreto avesse eliminato dei dubbi. In realtà il decreto dice delle cose, fa coincidere l'area metropolitana con la provincia da un punto di vista territoriale, dopodiché una provincia come Torino che ha 315 comune che vanno dalla città capoluogo, appunto Torino, a Clavier, alle Valle di Lanzo, a Ivrea, crea dei problemi su come coordinare questa attività. Le competenze che sono state date sono competenze importanti, c'è una fase costituente da attivare e per questo abbiamo deciso di fare un momento di approfondimento coinvolgendo il sindaco di Settimo Torinese Aldo Corjat e il presidente del consiglio provinciale Sergio Bisacca che sostituisce quella che doveva essere l'intercutrice originale, il Dacurti, assessore al Comune di Torino che purtroppo per problemi di salute non può essere qui presente. ringrazio Rosanna Abba dell'acqua, io sono Silvia Fregolent, capogruppo del PD in provincia di Torino e quindi insomma, come dire, questo più che un dibattito sarà un momento di approfondimento e di interlocuzione tra noi e voi ovviamente. Lascerei per primo la parola a Sergio Bisacca, ah no, per primo la parola a Dalcoldo Corjat, va bene. Buonasera a tutti, aggiungo, giustifico solo anche il segretario della federazione che è a Reggio Emilia impegnato in una discussione in questo caso nazionale proprio sul tema delle nuove aree metropolitane. Ma il dibattito di questa sera volutamente non è un dibattito di approfondimento sulla legge, è un dibattito che ha nel titolo i nuovi sistemi urbani, la nuova governance per i nuovi sistemi urbani. Che cosa significa? Che sta, a mio avviso, crescendo la consapevolezza che la gran parte dei cittadini vive in aree densamente popolate con una complessità infrastrutturale di relazioni, di rapporti economici e non solo e questo accade in tutti i paesi industrializzati del mondo. Questa consapevolezza porta anche noi in una città come Torino, che pure è già grande, è una città che ha sfiorato nel passato i milioni di abitanti, che oggi è attorno ai 800 mila, sicuramente è una città grande, più volte l'abbiamo definita capitale di diverse cose, ma che in relazione a altri sistemi urbani del mondo, nella fattispecie quelli europei con cui più spesso ci confrontiamo, è indubbiamente non riesce, a mio avviso, di spiegare tutta la potenzialità che invece un territorio più vasto, l'area metropolitana, chiamiamolo per ora così, potrebbe manifestare. Allora, intanto aumentare la consapevolezza secondo me fa bene, perché consente alla politica, la legge, di immaginare che cosa è necessario tenere assieme, mettere assieme, come si può governare quelle regole, quelle risorse, quelle necessità che in un territorio diverso dal resto si determinano. Qui c'è un primo problema, è diverso questa discussione rispetto ad altri sistemi urbani pur importanti, pur popolosi come Alessandria, piuttosto che la discussione che si sta facendo nell'accorpamento delle altre province. Evidentemente sì, non solo perché Torino ha una storia sicuramente più importante, capoluogo, economicamente un'area più forte, ma perché almeno in Piemonte non ci sono condizioni di aggregazione urbana così importanti come Torino e quel che c'è intorno a Torino. Cioè, seppur ad esempio, parliamo di Alessandria che è l'altra città più grande del Piemonte, attorno ad Alessandria c'è una serie di centri urbani pur importanti, di per sé non costituisce forza sufficiente per definire le aree metropolitane. Non hanno, diciamo, i presupposti, le condizioni di base per essere definite tale. E quindi in quelle condizioni, poi non parlo più di province, si sta definendo sempre a seguito della stessa legge, come accorpare centri che sono province e renderle in qualche misura più competitive, più razionali rispetto a una situazione di bisogno di risparmio di spesa pubblica come quella che abbiamo ora. Torniamo a Torino. La discussione è tutta da fare. Io credo che noi dobbiamo partire dalle utilità. Abbiamo fatto a giugno scorso un incontro a Veneria, dove abbiamo lanciato un'idea di costituire gli stati generali della nuova città metropolitana. L'abbiamo fatto in anticipo rispetto alla modifica della legge. Io credo che quel percorso non vada interrotto. Cioè noi questa discussione non dobbiamo farla al chiuso delle stanze istituzionali, non dobbiamo farla solo nel, come prevede la legge peraltro, nel Consiglio dei Sindaci che determinerà entro l'anno prossimo lo statuto della nuova città metropolitana, ma dobbiamo soprattutto nelle battute iniziali farla apprendoci molto, quindi interloquendo, discutendo con tutti coloro che poi quella città metropolitana dovranno vivere. E a mio avviso dobbiamo cominciare a discutere subito perché poi il dibattito sullo statuto diventi proficuo, su quelle che intravediamo essere le nuove necessità, o meglio le utilità, che potrebbero derivare al cittadino da un governo, da un ente, un'istituzione più grande della stessa città di Torino. Cioè che un ente che accorperebbe da questo punto di vista, senza scioglierli, è importante dirlo, i comuni su una dimensione ampia. Io mi fermo qui, dico solo i titoli di che cosa, poi credo che lo riprenderemo ancora, di che cosa a mio avviso si potrebbe fare in una città metropolitana, prima fra tutti, anche qui, la consapevolezza che questa città metropolitana dovrà competere in qualità, con altre aree dell'Europa che competono per acquisirsi, per procacciare delle risorse pubbliche, quelle che mette a disposizione ad esempio l'Europa, per sviluppare queste aree e noi abbiamo la necessità di avere la forza, gli strumenti, le intelligenze, la capacità di tenere insieme tutto quello che può rendere, diciamo, capace la nuova città metropolitana a competere dal punto di vista della qualità e non solo della quantità con le altre aree paragonabili a livello europeo e internazionale. In secondo luogo ci sono dei servizi che possono essere organizzati meglio, con risparmi, con maggiore produttività, con semplificazione su una scala più vasta, ne cito uno, io penso ad esempio che se noi potessimo avere una pulizia metropolitana sarebbe un passo in avanti nella sicurezza perché ci consentirebbe di disporre di una forza molto importante, qualche migliaia di agenti e di personale disponibile, ci consentirebbe di specializzare nuclei sulle principali tematiche della sicurezza urbana, ci consentirebbe di evitare quella dispersione di comandi, di personale di supporto amministrativo, di uffici che attualmente caratterizza la sicurezza nella nostra area metropolitana. Ora, in un intorno non così molto denso e non così vasto come la nuova ipotesi prevede, io credo che questa può dare un servizio migliore. Secondo titolo, i parchi, mettere insieme tutti i parchi urbani che non solo la città di Torino ha, che ormai hanno moltissime realtà dell'area della cintura di Torino, io parlo della mia, noi abbiamo quasi 3 milioni di metri quadri di parchi pubblici che possono essere messi a rete, in questi anni si è fatto molto in questa direzione, però dal punto di vista del governo anche qui noi potremmo semplificare molto, potremmo avere, anche essere più autorevoli, che non tanti enti che poi hanno qualche difficoltà a parlare fra di loro, che sono soggetti a modifiche, a interloquire con la regione in posizione di debolezza, cioè la città metropolitana può indubbiamente avere rendere la cosiddetta governance più efficace e più forte. O ancora, anche temi apparentemente complessi come tutte le politiche sociali, io credo che giocati su una dimensione di città metropolitana possono avere qualche gestione più efficiente e eliminare qualche sovrapposizione, in questo momento, credetemi, è davvero importante e prioritario andare a ricercare le possibili sovrapposizioni. Concludo in ultimo, una città metropolitana, cioè un insieme di persone, di energie, di mezzi, di imprese, di attori economici di questo tipo, io credo che possa, come dire, mettere a disposizione anche delle nostre imprese, dei nostri cittadini, delle organizzazioni, associazioni, un interlocutore pubblico più credibile nel fare le norme. Noi, ad esempio, credo che abbiamo di fronte a noi una grande necessità di unificare normative che non sono comprensibile a nessuno, cioè perché a Settimo, piuttosto che a Leinia, Volpiano, si debba avere tre regolamenti distinti sulla raccolta rifiuti, piuttosto che sull'igienico edilizio, cioè francamente non è più comprensibile che ci si sposti di qualche chilometro avendo su servizi di questo genere disparità tariffarie di modo di valutare le singole questioni. E questo dipende, a maggior ragione, nel momento in cui noi stiamo affrontando, spero a breve, un tema che viene da molto lontano come la riorganizzazione dell'infrastruttura dei trasporti nell'area metropolitana. Il 2013 dovrebbe essere l'anno in cui parte finalmente il passante ferroviario dopo che si sono realizzate le opere nella città di Torino. Credo che questo sia un passo molto importante per costituire coesione e relazione perché metterà in condivisione rapida migliaia e migliaia di cittadini, penso solo a quelli della parte verso la nostra zona, zona nord di Canavese, noi abbiamo quasi 500.000 abitanti che possono essere drenati e messi in comunicazione da una rete efficiente di ferrovia metropolitana. Bene, il 2013 è l'anno in cui questa cosa incomincerà a partire, è un anno difficilissimo dove hanno tagliato i fondi sui trasporti e quant'altro, però è bene dire che una città metropolitana è necessaria nella misura in cui ci sono infrastrutture che rendono i cittadini metropolitani e i trasporti sono forse fra tutte le infrastrutture quelli più immediatamente produttivi in questo senso. Grazie. Al Presidente del Consiglio chiedo invece, noi abbiamo fatto la battaglia per la salvaguardia delle province, devo dire partendo sempre da un dato, cioè della provincia di Torino che ha delle competenze ben definite, ne ha tante, così non succede in tutto il resto d'Italia. Oggi ci troviamo di fronte a ridisegnare lo statuto della città metropolitana, quindi un'opportunità di riscrivere la provincia di Torino così come l'abbiamo conosciuta. Quali sono, secondo te, le opportunità che ci possono essere in questa fase, invece quali sono le difficoltà, come ad esempio immagino ancora una previsione di elezioni di secondo grado che non mette in contatto quello che è la città metropolitana con i cittadini, ma penso che magari dal tuo osservatorio di criticità ne vede anche altre. Buonasera a tutti, io mi scuso perché non sono Ida Curti, lo diceva già prima, non solo perché sono maschio e Ida è sicuramente più carina di me, ma è evidente che per un dibattito come questo, in cui si parla dell'area metropolitana, ma si parla dei servizi metropolitani, è monco da un punto di vista del pensiero un incontro di questa natura senza Torino, perché è evidente, adesso è malata, però è evidente che un conto è chi discute, parlo per me, per Corgio, ma anche per chi ha fatto il capogruppo in provincia, con una visione del fuori Torino, è un conto invece capire su questo tema Torino che cosa pensa e quindi c'è un limite di questa natura. Prima di partire dalla parte istituzionale, io parto dalle problematicità partendo da una delle riflessioni che faceva Corgiat, si parla di area metropolitana, si parla di città metropolitana, sono due cose tra l'altro non sempre combacianti come visione, ma quando lo facciamo tendiamo, ma l'ha fatto anche il sindaco, lo condivido perché anch'io l'ho usato qualche volta, a mettere in paragone le città metropolitane, l'area metropolitana nella competizione di carattere europeo. Io penso che dobbiamo essere consapevoli che ogni paese, ogni storia, la storia di un paese segna le differenze anche nei confronti degli altri, e lo dico con chiarezza perché da un punto di vista, no ce l'hanno anche i rusi, ce l'hanno anche i cinesi, vedi che è un fenomeno internazionale, quindi gli albanesi, noi li abbiamo saputi esportare bene, qualcuno l'ha imitata un po' da tempo precedente. Però per non sviare dal dibattito, è evidente che se uno fa i confronti con le aree metropolitane europee, stiamo parlando di condizioni per nessuna città italiana, forse Milano ma nemmeno Milano, di essere nelle stesse dimensioni che si configura anche in modo urbanistico, molto più simile a un conglomerato unito, non c'è nessuna dimensione per abitazione, paragonabili alle altre aree metropolitane dell'Europa. Quindi la peculiarità nazionale, di questo bisogna tenerne conto nel bene e nel male, è di fatto la caratteristica di questo paese, che è fatto da 8 mila comuni, è fatto nella sua storia della Costituzione dei Comuni, è stato costruito nell'Unità d'Italia con le province come ente di area vasta, ma che ha nella diversità dei singoli posti, dei singoli contenuti, e delle singole anche difese di carattere locale, una potenzialità ma anche un suo limite. Quindi in termini urbanistici e in termini di comparazione è meglio mettere insieme, ma Londra non è nemmeno e dieci volte Milano per le dimensioni di quell'area lì. E quindi le problematicità e le competitività di quei territori, compresi quelli tedeschi, sono di dimensioni completamente diverse. E anche le governance dovrebbero essere diverse, perché in verità se noi dovessimo competere nella cosa classica, di rapporto di sviluppo con queste aree è evidente se uno non ha delle grandi città dovrebbe già, io parlo per il nord ovest, pensare, come si è fatto in passato nel pensiero, al rapporto tra Milano-Torino, Milano-Torino-Genoa. Quella è un'area che da questo punto di vista raggiunge a malapena le dimensioni delle più grandi metropoli italiane. Quindi la peculiarità italiana è sicuramente il fatto di essere nelle condizioni di avere gli 8 mila campanini con le sue caratteristiche. E segna anche poli di carattere diverso, io lo faccio dall'esperienza della provincia di Torino, non è che Torino nella sua debolezza degli 800-900 mila abitanti è il baricentro del mondo, perché in contemporanea, nel bene e nel male, nella provincia di Torino, non è successo nelle altre aree, perché è un'area molto vivasta, sia i comuni dell'area metropolitana, tradizionale come era stato concepita sin negli anni 70-80, ma complessivamente per la provincia di Torino, parlo di Ivrea, di Pinerolo, in contemporanea si sono date delle vocazioni e queste vocazioni sono anche state determinate, perché sempre nella storia di questa provincia c'è sicuramente il fatto che è una provincia che è caratterizzata di essere una provincia di carattere montano. Vedo qui in Mazza, noi abbiamo venduto il mondo, ad esempio, che Torino fosse la capitale delle Alpi e abbiamo costruito le Olimpiadi facendo le Olimpiadi in questo posto, Torino non aveva le montagne se non aveva il fuori. Allora, le dimensioni, ho fatto tutto questo ragionamento per dire che il vecchio dibattito su dove si ferma l'area metropolitana, oggi la legge la ferma all'interno della provincia come istituzione, ma in verità dipende da che cosa si fa, dipende da che cosa si deve governare da questo punto di vista. Allora, io concordo con Corjat che bisognerebbe partire dai contenuti, sapere che sull'area metropolitana che cosa deve fare, sapere il livello di governance che su qualcosa deve fare e deve costruire e sapere che la parte istituzionale non esaurisce tutta la forma di sviluppo e le forme di governance, perché è evidente che lo sviluppo di un'area è determinata sì dalle politiche di carattere pubblico, ma è determinata anche dalle politiche di carattere privato. E in base a queste politiche si è nella condizione di creare le condizioni di sviluppo. Oggi, ritornando alle cose che diceva Silvia, nel bene e nel male, partendo dalla crisi, dalla critica sbagliata sulle province, comunque qualcosa si è mosso. È evidente che da questo punto di vista si è mosso il fatto che nella determinazione degli enti di area vasta, oggi le province sono in superamento, la provincia di Turino sarà in superamento, e quindi c'è l'obbligo di arrivare all'area metropolitana come formula istituzionale di governance di problemi di area vasta. Io penso, ma ho sentito Saita l'altro giorno, ancora nella riunione con i dirigenti, che a seguito della legge si dovrà affrontare, come ricordava Silvia, entro un anno la costituzione istituzionale dell'area metropolitana, che ci sono due strade. La prima è una strada di carattere tradizionale. Bene, l'area vasta, la provincia non è stata superata, in fondo le funzioni, quelle delegate dalla regione, ma quelle nazionali continuano ad essere lo stesso. Non coincide la città con l'area metropolitana, perché istituzionalmente saranno due cose di carattere diverso, quindi ci potrebbe essere il trucco di dire che la provincia di Torino continua a mantenere, diventa Saita, ci trasforma da provincia a provincia metropolitana. Io penso che questo sia limitativo, perché per le cose che diceva Corgiat, per i titoli che diceva Corgiat, o noi siamo nella condizione di determinare, da questo punto di vista, che su questa area vasta ci siano una sorta di determinazione dei servizi, della gamma dei servizi che vanno gestiti. In alcuni casi bisogna, secondo me, restituirla a una gamma anche più ampia. Ne cito uno, il turismo non ha nessun senso, forse non ha nemmeno più senso farlo regionalmente, ma non ha senso farlo per la provincia di Torino, per l'area metropolitana, ma in qualche modo governato come istituzione e come iniziativa dal quarte del pubblico, sicuramente alla regione. Ma in contemporanea alcuni elementi che sono oggi gestiti dai comuni, in qualche modo devono provare a collocarsi di dentro. Qual è il limite? Che se noi vogliamo una istituzione che in qualche modo possa contare politicamente, a oggi il vero problema è un problema di democrazia, perché a oggi l'idea che c'è all'interno, sicuramente il governo Monti, e la nottata dei tendici, in qualche modo ha determinato il suo versante, non che non ci siano responsabilità anche politiche da parte del centro-sinistra e dello stesso PD nell'aver in parte valorato questa idea, siamo una destrutturazione della cosa pubblica. sicuramente c'è una destrutturazione di carattere gestionale da parte degli enti locali, il taglio in contemporanea continua a dire, vale per le province, ma anche per i comuni, che in qualche modo si vuole colpire e ridurre la capacità della pubblica amministrazione di poter intervenire territorialmente, perché sennò i tagli non si capirebbero, perché vengono fatti solo sugli enti locali. La seconda cosa, c'è una riduzione della democrazia. Io penso che se quell'area vasta, che si chiami area metropolitana, provincia metropolitana, deve essere in qualche modo significativa per poter governare processi decisionali, non si può arretrare sul livello di democrazia diretta da parte dei cittadini. Enti di secondo livello non avrebbero nessun senso, io sono spaventato di come la politica in qualche modo oggi è sotto scacco, ma la politica deve fare una reazione, perché se alla fine solo alcune oligarchie elette da qualche parte di rappresentanza di qualcun altro vede il sistema elettorale nazionale, sono l'unico modo per rappresentare le selezioni dei gruppi dirigenti, io abborrisco il secondo livello e dico attenzione, proviamo a ripensare che la politica, sì, fa schifo e puzza, ma magari non è sostituibile dal punto di vista della democrazia e vada introdotto di nuovo il voto per la selezione dei propri rappresentanti. Grazie. Entriamo un po' più nel dettaglio sapendo che c'è un problema che riprendeva il Presidente del Consiglio, i tagli lineari che ormai da, tu che sei sindaco, questo è il tuo secondo mandato, infatti sei addirittura dimagrito per rendere evidente fisicamente il taglio della spesa pubblica, appunto i tagli che continuano ad arrivare, noi abbiamo paura che la provincia muoia prima ancora che per legge, per inerzia, per non poter più fare le cose che ci hanno contraddistinto in questi anni per mancanza di soldi. Allora, sindaco, tu parlavi di una possibilità di unire servizi, di fare un'area di contenuti, prima ancora, che è confini, eccetera, eccetera, io condivido, ma secondo te non c'è la paura che in questa fase di risorse zero questa sfida parta a Monca perché non ci sono le risorse per investire o invece l'area metropolitana superirebbe a questo? Prima domanda. Seconda domanda, come un dibattito che oggettivamente appassiona chi è dentro, nella macchina, chi lo fa come sindaco, come consigliere provinciale, può essere invece allargata al pubblico, alla gente che poi dovrà vivere in questa realtà? Come da le stanze o da un dibattito di una festa lo si rende attuale nei confronti della gente? Per esempio, pensavo alla battuta che tu prima hai fatto sul trasporto di settimo, in fondo la gente è quella che poi prende il pulmone, quindi se lo si dà un'alternativa valida ed efficace capisce in concreto dove si arriva. È chiaro che fare cose in un periodo di crisi dove mancano i soldi è sempre difficile. Ma proprio per questa ragione io credo che questa discussione che noi siamo chiamati a fare, perché le leggi poi al di là di tutto bisogna rispettarle, vada accolta con coraggio, con il senso che potrebbe essere un'opportunità. Provo a spiegarmi. Io ad esempio bisogna dire le cose come stanno, cioè in questo momento comuni che possono permettersi anche una piccola quota di cofinanziamento per accedere a finanziamenti molto più grandi di sistemi nazionali europei non c'è nessuno, nemmeno il Comune di Torino. Perché appena viene richiesto di mettere la tua quota su dei finanziamenti internazionali non c'è. Il Comune di Torino ovviamente ha risorse patrimoniali di relazioni più importanti e quindi può ancora provare a giocare delle partite, tutti gli altri questa possibilità non ce l'hanno più. Allora mi chiedo una nuova città metropolitana può permettersi perché intanto è nuova e quindi si tratta di riscrivere dall'inizio anche un po' le regole e poi perché avrebbe la scala per dare una risposta più adeguata a titoli poi bisognerebbe entrare meglio nel merito la gestione del patrimonio pubblico ha un patrimonio importante ma come fa un Comune parlo di Settimo perché non offendo nessun altro sindaco è impensabile che pur essendo una cittadina di 50.000 abitanti che sia in grado di mettere in piedi gli strumenti moderni di gestione della finanza del patrimonio è chiaro che quando le cose erano diciamo ordinarie cosa si faceva ogni anno c'era la capacità di fare un po' di mutui viceversa scadevano quelli vecchi si cercava possiamo dire con molta franchezza ai cittadini che per un po' di anni questa possibilità che noi conoscevamo come normalità gli amministratori le vivevano come normalità negli anni precedenti non c'è più di questo si discute troppo poco cioè nel 2012 è il primo anno che nessun comune ha ricorso all'indebitamento perché un po' perché non possono per i limiti di legge perché sono stati ribassati e chi non era diciamo è al di sotto dei limiti imposti vuol dire che era un comune che storicamente non spendeva e quindi dal patto di stabilità non può continuare a non spendere deve continuare a non spendere non può non può farlo perché se no buca il patto di stabilità ora di fronte a una situazione di questo genere c'è o no bisogno di ripensare a un meccanismo che consenta di incanalare flussi di patrimonio da un lato di risorse proprie da un lato e di capacità di gestione delle risorse finanziarie che sono disponibili e che possono essere intercettate a condizioni che si sia forti nella proposta io penso di sì sbaglia Torino secondo me non è questa attualmente la logica di Torino un po' nel passato lo è stata di pensare di poter fare tutto da solo perché anche Torino che pur ripeto ha risorse e potenzialità più grandi incontra su questi temi dei limiti molto forti in secondo luogo dobbiamo dirci che nei prossimi mesi parte un negoziato con la regione Piemonte che sta riscrivendo le regole degli enti locali e sarà un negoziato durissimo lo dico in una sede in una festa di partito di là bisogna sempre ricordarci che c'è un centro-destra che ha un'idea diversa di questi temi che pensa che sia bello una parte di quel governo regionale che tra l'altro ha in mano anche l'assessorato pensa che sia bene che ci siano dei comuni piccolini che non facciano granché in termini di servizio che facciano magari e vuole mantenere la situazione così tant'è che in questi anni non si è mosso nulla l'altra parte del centro-destra è un po' più disattenta e che comunque rispetto a noi ha un'impostazione molto di conservazione da questo punto non si pone il problema delle regole è un problema che non li riguarda quindi questo anzi l'altro pezzo del centro-destra potrei dire è abbastanza passatemi un termine un po' non diplomatico ha satanato nel cercare di portarsi potere in casa e se può porterà via tutto quel che può in termini di competenze anche gestionali l'abbiamo visto in tentativi sui rifiuti sui trasporti di parlo del pezzo di centro-destra quello più di destra per capirci l'esperienza dell'alleanza nazionale il loro unico problema è inserire la regione e quindi i loro assessorati all'interno della gestione della spesa pubblica tema tra l'altro costituzionalmente non possibile le regioni vanno ricondotte ad essere enti molto più snelli di quanto non sia non siano ora che fanno quella che la costituzione gli assegna noi stiamo vivendo una fase opposta bene posso dire ai miei amici e compagni della provincia di Torino che questa nei prossimi mesi sarà la battaglia fondamentale e io credo che la provincia che è stata oggettivamente indebolita da questo dibattito non può essere lasciata sola in questo senso perché in questi anni in questi ultimi mesi in particolare la provincia è stata diciamo la verità anche un po' abbandonata dagli altri enti prima o fra tutto la città di Torino ma parlo anche del mio comune cioè noi abbiamo bisogno di ristabilire rapidamente dentro il partito democratico questa consapevolezza c'è bisogno di una grande battaglia politica per nei prossimi mesi per ridiscutere i poteri pubblici che governano un territorio in quest'ottica io immagino che l'istituzione della città metropolitana sia l'elemento che ci fa vincere questa battaglia che ce la può far vincere perché a questo punto quel lente non è che deve far la corsa ad accappararsi competenze o a conservare quelle della provincia io credo che ci sia lo spazio anche in una discussione molto per questo dico la propongo molto aperta perché noi abbiamo degli alleati fortissimi nelle categorie nelle guardate che a novembre quando dovremmo fare i nuovi regolamenti della nuova tassa sulla raccolta rifiuti noi dovremmo discutere con le categorie dell'industria dell'artigianato del commercio che si troveranno in virtù del fatto che per molti comuni che adesso sono a TIA la reintroduzione della tassa porta secco un aumento dell'IVA del 10% cioè queste categorie noi dobbiamo discutere e dovremmo discutere dando anche qualche soluzione però da un lato dovremmo segnalare anche un po' diciamo la facilioneria con cui il governo centrale fa queste norme perché io che sostengo come noto assieme al Partito Democratico mica però dobbiamo star zitti cioè se ci sono all'interno di quelle norme delle cose che sono state buttate giù da gente che probabilmente ha mai visto un comune in vita sua forse è giusto dirlo e in questa discussione io credo che la questione della città metropolitana possa diventare un pezzo di questa discussione ad esempio lo dicevo prima sulle regole guardate che apprezzato da queste categorie se noi come Partito Democratico proponiamo una stagione in cui il barista del centro di Leini paga uguale al barista del cento di settimo non dico di quello di Piazza Castello che è oggettivamente una cosa diversa ma magari di quello di Barriera di Milano sì oggi non è così altro che concorrenza libera ci sono fattori anche importanti che ormai pesano sull'economia di queste imprese che stravolgono le condizioni di concorrenza all'interno di un territorio e queste dobbiamo rimuoverle e chi lo fa non può farlo una reedizione della provincia dobbiamo far evolvere questa discussione mettendo un ente che sia contemporaneamente città e provincia uscendo un po' dalla discussione francamente poi dell'estensione territoriale poi questa ormai è risolta la legge prendiamo le cose come stanno e facendo uno sforzo per entrare nei contenuti guardate che se noi facciamo questo sforzo io credo che incontreremo molte buone idee anche da parte di categorie di associazioni di enti che ci diranno che cosa gli serve rispetto all'attuale situazione e noi dobbiamo passare da enti più orientati alla gestione della spesa pubblica perché gli enti locali sono poi nati moltissimi anni fa e anche dal loro ordinamento si è sviluppato nel dopoguerra negli anni successivi partendo da quelli che erano i bisogni reali dei cittadini allora i bisogni reali dei cittadini era introdurre nuovi servizi non è che sia sempre stata così la vita e quegli enti hanno assolto questo compito hanno organizzato spesa pubblica bene possiamo dire che in questa situazione noi siamo a un cambio di pagina e quindi io non propongo enti che non abbiano più la gestione della spesa pubblica ma dobbiamo dirci che il nuovo ente dovrà avere una un approccio verso questo tema diverso da quello adesso deve essere un ente più orientato all'organizzazione dei fattori di sviluppo che non all'organizzazione della spesa pubblica per i servizi poi dovrà in realtà fare tutte le cose adesso io ovviamente per farmi capire estremizzo sempre un po' ma questa discussione propongo che la facciamo rapidamente nel PD perché attenzione fra poche settimane questa discussione noi dobbiamo portarla al tavolo di una discussione aperta con la regione Piemonte e con chi ha il compito di fare il primo passo cioè l'organizzazione diciamo di alcuni importanti servizi e poteri locali che poi condizionerà necessariamente anche la discussione dello statuto sulla città metropolitana partirei dall'ultimo appunto in effetti per fare la città metropolitana nell'area metropolitana chiamiamola come vogliamo abbiamo bisogno dell'accordo da provincia presidente della provincia sindaco del comune capoluogo e poi di 315 comuni oltre alla trattativa da fare con la regione Piemonte per quello che abbiamo visto anche dal dibattito questa sera ma nelle varie serie di partito non credi che ci sia una oggettiva difficoltà di coordinare una posizione di Torino rispetto a quello che invece avviene in altre aree è bello fare i dibattiti da concorso per la prima volta siamo in contrasto su qualche pezzo io parto da questa dichiarazione noi gennaio 2014 non esistiamo più quindi la provincia non c'è più quindi l'attività politica che faranno i consiglieri provinciali il presidente Saitta da qua è consapevole che questo tema è un tema che se interessa alla politica parlo del partito democratico che poi riprenderò è un problema che deve sviluppare il partito democratico anche chiarendosi qualche idea da questo punto di vista non che ci siano grandi contasti io ho visto da un punto di vista dell'atteggiamento del PD un atteggiamento almeno quello piemontese non dico che abbia trovato una visione di coerenza ma che in qualche modo era meno in contrasto del contrasto che c'è stato nazionalmente lo dico perché fa bene Corgiat a dire che quando questi tendici scrivono scrivono senza sapere di che cosa parlano io ho citato il sistema elettorale c'è un disegno di legge sul nuovo sistema elettorale che prevede che ci siano 12 consiglieri provinciali eletti da una base elettorale di circa 4.000 5.000 consiglieri in cui il consigliere di Maciausia è pesato esattamente come il consigliere di Torino quindi è evidente che chi scrive quelle cose lì le scrive senza sapere di che cosa parla ma attenzione il secondo livello è quindi l'idea di una ripartizione delle funzioni ma anche della democrazia all'interno degli enti della Ravasta non dico la Proigia e del PD perché il secondo livello è un'idea che anche a Torino è vissuta io mi ricordo Chiamparino era un teorizzatore ed è stato presidente nazionale del Lanci l'attuale presidente del Lanci ha la stessa idea la regione il compagno Arrani ho capito che si può ridire la parola compagno anche nelle feste del PD senza dire necessariamente compagno amico è uno che ha pensato perché il modello emiliano è così che gli enti di Arevasta si chiamano solo la regione allora c'è un problema di posizionamento nazionale io dico c'è un problema di posizionamento di carattere locale concordo sul fatto che se interessa se l'area metropolitana interessa e non deve essere solo un'istituzione che alla fine non abbia caratteristiche della vecchia provincia ma deve metterci un po' di contenuti bisogna che il PD sciolga qualche nodo sempre a battuta questo tema di piccolo e bello non è solo della Lega perché ho visto anche alcuni amici che scrivono sulle nostre cose che pensano che in fondo i piccoli comuni continuano che hanno secondo me un valore io rappresento un'istituzione che ha 315 comuni che quindi ha dovuto parlare con Torino ma parlare anche con Maciausia è evidente che i localismi centro ma da un punto di vista delle dinamiche generali bisogna che in qualche modo non possa essere riscoperto del piccolo e bello e ripeto questo dibattito è anche a casa nostra sulle stesse funzioni Corgia dice in linea con la legge bisognerebbe pensare a quelle funzioni che oggi sono nei comuni di riportarli in un ente di area vasta io ho sentito ancora rappresentanti del lanci piemontese e torinese che nelle sedi del CAL dicono no le funzioni ridate dai comuni non so se sono affezionate ad avere la scuola superiore gestita direttamente ma da questo punto di vista io penso in modo rapido il partito democratico deve trovare le condizioni per discutere se non ne discute alla fine la legge è già chiara o sarà il sindaco di Torino nel 2014 che si prende anche questo Bado e però per l'esperienza che ho fatto io se l'area vasta è quell'area vasta che in qualche modo deve mettere insieme non solo l'area tradizionale metropolitana ma una cosa più vasta occorre evitare che il campanile che continua a sussistere in questo caso schiacci l'idea dell'area metropolitana per chi sta fuori essere governati da Torino non gli passa con tutta la buona disponibilità nei confronti di Fassino ma chi è fuori vale per il primo cerchio ma vale per Maceausia sempre per citarla questo tema di essere che ha vissuto conflittualmente il rapporto tra Torino e il fuori continua a sussistere quindi se c'è un'idea che serve occorre in breve tempo non solo mettere insieme l'idea di Fassino l'idea di Saitta perché anche questi due non vanno da nessuna parte ricordo che la legge prevede che per fare lo struttuto ci vogliono due terzi dei sindaci bisogna che insieme ci sia un partito che deve avere una visione politica che individua che cosa serve qual è la funzione che ne trova il comune e poi dall'altra parte che apre una volta chiaritici le sue idee il rapporto con la destra e la regione nelle mancanze sì la destra ha il suo pensiero io francamente cosa pensi i nostri consiglieri regionali lì tanto si può ormai si fa sempre polemica non lo so quindi posso vedere un disegno della lega posso vedere un disegno del PDL ma ad esempio sapere cosa pensano i miei consiglieri regionali non lo so molti sono impegnati a difendere le proprie province o la propria visione altri da un punto di vista della visione dell'area metropolitana pensano che lo sia un tema loro allora la riorganizzazione delle funzioni sta anche in capo a loro io penso che la regione già hanno una scala molto piccola in verità bisognerebbe ragionare su regioni anche qui io prima ho fatto il paragone tra le aree metropolitane e in Europa ma non è che le regioni europee abbiano le dimensioni delle micro regioni che abbiamo in Italia perché solo noi ne abbiamo 20 con quelle dimensioni allora bisognerebbe già riorganizzare quelle funzioni e sull'area vasta avere da questo punto di vista un'idea comune tra cosa si prende dal basso lo si porta nell'area vasta e cosa dall'area vasta deve essere invece in qualche modo governato regionalmente io direi di fare un'ultima domanda poi se vogliono intervenire dal pubblico sono i benvenuti un'ultima domanda al sindaco supponiamo che tutto questo che abbiamo detto oggi che c'è stato che è scritto non esiste supponiamo che andiamo al governo nel 2013 e che ci viene data carta bianca per ridefinire l'area metropolitana tu come la riscriveresti? ma se dovessimo ripartire da capo io ho un'idea radicalmente diversa da quella che mi rendo conto è la io penso che in una situazione come quella che si sta respirando che in qualche modo incrocia le crisi la crisi che conosciamo con la crisi degli stati nazionali il rapporto fra stati nazionali e Europa eccetera probabilmente la cosa che bisognerebbe fare è un ripensamento delle regioni non delle province questa è la mia opinione ma è evidente che siccome non possiamo riscrivere da capo è un'opinione che mi tengo ti ringrazio per avermi fatto la domanda ma se oggi dovessimo pensare a un ente che costa tanto e produce poco io immaginerei che le regioni potrebbero abbiamo vissuto in Italia fino agli anni 70 senza regione vorrei discuterne anche perché capite che quando un bilancio di un ente è di fatto commissariato per oltre l'80% c'è da chiedersi quel restante 20% se ha senso che costi così tanto mantenerlo mi sto riferendo alla sanità probabilmente le aziende sanitarie dopo con qualche regola sulle nomine dei direttori che sta impegnando il nostro ministro che ci sarà in approfitto per dire che ci sarà questa sera potrebbero essere nominate a prescindere dalla regione intanto non vedo questo rapporto tra i manager e il governo della regione la spesa è lì l'80% di questa spesa è monitorata a livello di ministero centrale la salute ovviamente giustamente allora le altre competenze regioni la più importante sicuramente è quella della pianificazione probabilmente c'è la possibilità con molto meno soldi di organizzare dei governi che siano in grado di gestirlo ma chiuso la parentesi è una mia opinione e vi prego di non registrarla la cosa invece che mi chiedo è indubbiamente l'attuale previsione che è quella di costituire la città metropolitana io sono d'accordo totalmente credo che bisogna dare una battaglia molto importante che è decisivo il modo con cui noi voteremo questi signori purtroppo in questi anni anche nel nostro partito io sono noto per non aver condiviso molte cose del sindaco Chiamparino io non ho mai condiviso quell'impostazione l'impostazione del pensare che una città metropolitana sia gestita da persone di seconda nomina o come si dice adesso nella legge con incarico onorifico o dal sindaco della città di Torino secondo me porta inevitabilmente a un ente pressoché inutile perché quell'ente lì non avrà da un lato è molto meglio fare l'unione dei comuni passate il termine perché la governance sarebbe un po' più condivisa quell'ente lì il minuto dopo si troverà a una crisi di autorevolezza forse anche Fassino che pure di autorevolezza per la sua storia ne ha molta ma non è pensabile che un ente non votato dai cittadini possa imporre regole sovraordinate da tutti questo a meno che sospendiamo la democrazia ma forse c'è chi lo pensa non è nel nostro caso io spero che non avvenga mai quindi la battaglia di dire quei consiglieri poi se devono essere 12 15 eccetera la legge adesso prevede 12 non è un dibattito che mi appassiona meno ma l'elezione diretta per un ente che deve contare che deve essere autorevole più dei comuni perché quando quell'ente lì va a rappresentarsi nelle sedi internazionali eccetera quel signore lì non ne deve essere un impiegato deve essere uno che porta il parere dei cittadini e l'unico modo per non essere un impiegato un dipendente ma un rappresentante è farsi eleggere io non ne vedo in democrazia altri modi di questo genere l'abbiamo già visto con la furbata del porcellum dove sembrava abbiamo trovato i deputati sono nominati i nodi vengono al pettino a un certo punto chi è nominato per bravo che sia non ha una crisi di autorevolezza in democrazia bene io credo che questa battaglia per far sì in parte la legge lo consente lo apre è una discussione tuttavia che dovremmo fare io credo che vada data vada data non fine a se stessa perché abbiamo in testa Tizio Caio Semprogno no perché se non riusciamo ad avere un governo rappresentativo inevitabilmente le utilità le funzioni dell'ente saranno minori e io sono convinto che invece noi abbiamo bisogno di un ente che non faccia tutto che dia molto ai comuni di nuovo la discussione con i piccoli comuni che io capisco e per certi versi condivido io faccio il sindaco di un comune medio quindi diciamo intermedio so perfettamente che quando un comune ha timore di essere schiacciato reagisce con logiche di campanile quindi bisogna evitare di non solo di spaventare i piccoli comuni bisogna essere chiari fin dall'inizio io credo che lo scambio possa avvenire esattamente su questo terreno i piccoli comuni devono avere fin dall'inizio la certezza che non gli si viene tolto nulla che se mai gli viene aggiunto qualche cosa in termini di potere questo è possibile cos'è che oggi toglie i comuni la finanza pubblica ormai i comuni in questa situazione non solo non fanno più niente sono il parafulmine di tutto cioè c'è un terremoto è colpa del sindaco c'è la neve bisogna che e non ci sono le risorse per organizzare i servizi quindi ormai secondo me anche i miei colleghi più ostili a logiche di unione di cooperazione secondo me due o tre anni come quello che abbiamo vissuto adesso sta tranquillo che si convincono tutti perché a questo punto si capisce che i comuni da soli non riesci neanche più a far l'amministratore quindi io credo che lo scambio con i comuni piccoli sia esattamente con i comuni diversi dal capoluogo sia dare fin dall'inizio la serenità che le competenze ma in un ombrello protettivo un po' più forte che non quello indubbiamente dato dalla provincia lo dico pubblicamente perché in questi anni se noi non avessimo avuto la provincia che rafforzava il ruolo dei comuni diversi da Torino nel rapporto con Torino e nel rapporto con la regione i comuni avrebbero avuto enormi problemi su temi fondamentali come l'acqua i rifiuti i trasporti la programmazione territoriale cioè la provincia ha solto un ruolo non di sindacato dei comuni per lì ci sono le associazioni ma sicuramente un ruolo di rafforzamento di equilibrio nella determinazione bene io penso che questa sintesi oggi possa essere ritrovata su alcune materie quelle fondamentali a un livello superiore e guardate che quando i comuni più piccoli come ad esempio anche il nostro capiscono che di fronte a questo meccanismo ci sono nuove risorse che entro guardate si convincono subito il problema è a innescare questo circuito virtuoso e io penso che ci siano le condizioni perché questo avvenga a condizione che la regione stia nei suoi confini e non sia invece perché questo scusate se insisto ma penso che sia il pericolo più grande che la regione in una crisi di ruolo e parlo anche dei nostri consiglieri è una discussione che non è solo esclusivamente centro-destra centro-sinistra è una roba che va discussa io ho massima stima dei nostri consiglieri regionali che ho contribuito a votare eccetera però è una discussione che dobbiamo fare non vorrei che la regione in preda a una crisi di ruolo reagisca tentando di acquisire competenze di gestione che la Costituzione non gli assegna che è sbagliato non hanno neanche la testa per gestire quelle robe gli apparati regionali non hanno mai gestito hanno la Costituzione gli dice che le regioni fanno regole e lì bisogna capire se le fanno bene o male è un altro discorso ma la gestione non è possibile quindi questo è il primo passaggio da fare evitare che la regione assorba competenze che poi non riesce a gestire un passaggio una semplificazione molte cose gestite dalla provincia oggi a mio avviso possono andare ai comuni meglio se sono associati se sono unione dei comuni è più facile e poi questa città metropolitana a mio avviso deve essere scritta fin dall'inizio e lo statuto dovrà essere quel documento almeno io darò la battaglia perché così sia ma il luogo che pensa e che organizza i fattori per lo sviluppo un luogo molto aperto che sia più orientato a mettere insieme le energie che sul territorio non sono solo pubbliche un ultimo esempio e davvero la smetto qui oggi ci sono dei bandi per l'innovazione un ultimo l'ha tirato fuori il ministero della pubblica istituzione il MIUR prevede un cofinanziamento del 25% circa per una serie di quelli che chiamano i cluster di sviluppo sono una serie di possibilità di sviluppo mi riferisco a quello che di qui a 10 anni sarà l'elemento che ci farà vivere o bene o male in un'area urbana parlo ad esempio della telecomunicazione dei servizi banda larga della capacità di organizzare infrastrutture possiamo dirlo che i comuni non riescono neanche più a fare un cavalcavia non abbiamo i soldi per fare un cavalcavia ma non è a Settimo a Nichelino a Collegno sono i comuni in genere allora quel tipo di infrastrutture chi lo farà nei prossimi anni non possiamo mutuare non possiamo indebitarci dobbiamo ritornare del debito chi ha i soldi non può spenderli perché c'è il patto di stabilità vogliamo pensare che la città metropolitana sia non dico l'ultima occasione io sono un ottimista nella vita ma sicuramente un'occasione per provare a ribaltare questa deriva che negli ultimi dieci anni nel rapporto fra Stato centrale e enti locali c'è stata questo è il tema e io penso che i nostri amministratori della provincia tra l'altro Torino lo segnalo è stata la provincia diciamo più attiva su questo fronte quella che ha anche già prodotto un miglioramento della legge possa essere proprio per queste peculiarità che diceva Bisacca il luogo dove andiamo a pensare anche una cosa che sia davvero forte nel dibattito che necessariamente ci sarà a livello nazionale grazie la stessa domanda vado in coda le cose dette un po' di ottimismo e un po' di pessimismo parto dall'ottimismo nel senso la logicità della Giacorgiat la cosa che ci fa dire che qui ci sono le condizioni politiche non è così da tutte le parti perché immagino che in Campania ma anche solo in Emilia questo discorso sulla riorganizzazione dell'era metropolitana e che cosa voglia dire perché ci sono impostazioni di carattere diverso qui la cosa positiva è che sul tema della concertazione un termine che a Monti non piace in verità i livelli istituzionali in questi anni per le cose che ricordava Corsa prima invece hanno costruito un comune sentire e anche un'idea comune della gestione se noi non avessimo avuto questo nel rapporto forse mediato dalla provincia ma comunque mediato dalla politica leato sulle acque le scelte sui rifiuti le scelte anche del PTC sull'urbanistica e anche una visione complessiva da parte della politica non avrebbe generato le cose che in questi anni si sono fatte quindi io mi sento dire per la storicità soprattutto guidato dal centro-sinistra dal PD di pensare a mettere insieme una concertazione di carattere territoriale le condizioni positive ci sono non dipende dalla provincia dipende dal pensiero politico e qui il PD gioca un ruolo fondamentale ma da un punto di vista delle dinamiche io vedo e su questo credo che vada ribadito l'apertura del dibattito nel Partito Democratico ci sono oggi visioni diverse o scelte diverse tra la città di Torino che secondo me non è un giudizio su Fassino di cui io ho un giudizio positivo ma della contingente che in qualche modo sta Torino obbligandolo a una richiudersi ulteriormente nelle sue cinte naziarie lo dico perché nelle difficoltà economiche evidente che occorrerebbe avere un'idea di finanza di valorizzazione immobiliare di valorizzazione dell'azienda che in qualche modo sia comune non sta venendo così noi l'abbiamo visto sui rifiuti avete visto la polemica che c'è tra la provincia e il comune di Torino sulla vendita di TRM ma non come elemento di contrasto come idea che quello era un bene comune allora su questo io ho qualche segnale di preoccupazione dall'altra parte un'idea regionalistica della gestione che non è stata introdotta dal centro-destra che non è che con Bresso non ci sia stato un passo in avanti nel gestire i ruoli di Finpiemonte non sono nati col centro-destra da questo punto di vista li abbiamo visti con molta perché chi comanda tende a gestire anche il pezzo allora se il PD ripeto ritorno sempre a casa nostra è in grado di rimettere insieme un pensiero e farne un fattore comune in cui ognuno istituzionalmente viaggia e rema dalla stessa parte queste condizioni dell'area metropolitana ci sono tutte e non lo dico per noi perché l'ho detto prima noi siamo a scadere ma soprattutto per il futuro e per i cittadini se invece il PD fa elemento di posizionamento territoriale cito Torino nei confronti del resto del mondo oppure di salvaguardia dei piccoli comuni che non capiscono alla fine oppure posizionamenti politici per il futuro politico della sua classe dirigente alla fine facciamo una cosa sbagliata e l'area metropolitana che è un'occasione rischia di perdere io pendo più della prima parte sono più ottimista però occorre che la politica si rimbocchi le maniche e dentro brevissimo tempo perché ricordo che c'è un anno per definire statuto e funzioni riesco a trovare l'idea di che cosa fare nei prossimi mesi sono comunque ottimista grazie vorrei lasciare la parola al pubblico vedo qua Andrea Giorgis che oltre a essere stato consigliere comunale nella passata capogruppo del PD anche del Comune di Torino con Chiampanino è anche professore di diritto costituzionale quindi mi piacerebbe sapere la sua idea di area metropolitana se vuoi intervenire guarda fai le veci di Ilda Curti e mi farebbe colpo basso anche perché mi piacerebbe sapere visto che tu sei un professore illustrissimo è stato anche assistente quando io davo diritto costituzionale con Zagrebeschi ma per fortuna non mi ha interrogato lui perché era più severo di Gustavo è vero è stardissimo tutti avevamo paura di passare con lui invece c'è un grosso problema penso che sia l'apice del sistema Italia cioè la burocrazia che ammazza il sistema Italia un imprenditore che vuole fare sistema in Italia ha molte più difficoltà con un imprenditore di qualsiasi altra parte del mondo mi ricordo che quando c'erano incentivi sulle rinnovabili un imprenditore italiano doveva fare tanto così di pratiche un imprenditore tedesco aveva un'autodichiarazione la differenza tra una macchina che funziona e una macchina che funziona quando le province sono state c'è stata insomma si è annunciato che venivano cancellate c'è stato un urlo di gioia perché ovviamente poi quando c'era la seconda domanda vuoi cancellare la tua provincia tutti dicevano di no però in generale come ente perché veniva visto come una semplificazione della macchina poi non sapendo in realtà che invece si complicavano in alcune case le cose quindi mi piacerebbe avere anche un tuo apporto dal tuo punto di vista su questo tema dell'area metropolitana che sicuramente se ne parla anche nei periodi di Castellani e Chiamparino poi non si è mai realizzato a mio modo di vedere anche perché veniva visto come un'annessione di Torino città ma questo è un mio modestissimo parere questo è un brutto scherzo uno viene per ascoltare e non si immagina mai più di dover dire nulla anzi ma lasciami solo prima fare una considerazione su quest'ultimo tuo accenno al desiderio che le province vengano abrogate e la pubblica amministrazione venga smantellata io credo che noi dovremmo su questo tema chiederci come mai tutto ad un tratto in Italia si diffonde l'idea secondo la quale togliendo le province ci sarebbe un qualche vantaggio un qualche miglioramento ora quest'idea a me pare che si inserisca in quel filone molto molto serio e molto preoccupante che tende a come dire veicolare l'idea per cui meno Stato meno pubblica amministrazione meno politica meno livelli istituzionali e meglio è sulla base del presupposto non esplicitato sempre ma talvolta in realtà viene anche detto che delle istituzioni della politica poi si dice dei parlamentari degli amministratori eletti si possa fare a meno perché di questi sì attenzione quali questi? questa categoria di questi anni questi anni io sono tattora un po' 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 si però guardi mi lasci che sia radicata è un fatto da cui no aspetti che l'idea secondo la quale in Italia ci sia troppo livello pubblico troppa politica troppa amministrazione è radicata ma questo ma questo è male perché non corrisponde al vero noi facciamo una comparazione tra la situazione italiana e la situazione degli altri paesi europei e cominciamo a renderci conto che la pubblica amministrazione in Italia ha un numero di dipendenti che è inferiore a quello della Francia a quello della Germania a quello della Spagna e quello di tutti gli altri paesi sviluppati quanto riguarda la prestazione anche qui questo luogo comune secondo il quale la pubblica amministrazione è inefficiente io vorrei che noi prima di con tanta semplicità farci portatori di questa idea cominciassimo a chiederci oggi nella mia giornata che inizia al mattino da quando mi sveglio alla sera quanto mi corico quanti servizi ricevo dalla pubblica amministrazione a partire dall'illuminazione dalla strade dai servizi sanitari sono tutti una schifezza no guardate guardate che se siamo intellettualmente onesti no semmai il problema il problema il problema è che c'è troppo poca efficienza in termini di risorse di autonomia se ci fosse un'opinione pubblica mi dica si ma adesso ci arriviamo adesso ci arriviamo lì ci arriviamo lì ma la mancanza di autocertificazione è figlia di questa stessa sfiducia nei confronti della pubblica amministrazione guardi perché continuare a veicolare l'idea secondo la quale della pubblica amministrazione della sfera pubblica si può fare a meno ci porta ad avere sempre più disuguaglianza e sempre più di regolamentazione e potremmo anche arrivare al punto di chiederci di chiederci se non sia in realtà tutta questa diciamo diffusa avversione verso la dimensione pubblica e verso l'organizzazione burocratica non sia un po' uno degli ultimi cascami speriamo uno degli ultimi davvero di quella ubriacatura liberista di quella ubriacatura individualista in base alla quale ogni cittadino in realtà può fare da sé ogni cittadino è bene che sia liberato da tutte queste regole queste fardelli questi vincoli di appartenenza queste comunità nelle quali è inserito perché meno corpi intermedi meno partiti meno burocrazia meno organizzazione pubblica e automaticamente ci sarà il regno della libertà dell'efficienza e peccato che poi non ci saranno più i servizi e soltanto una piccolissima parte dei cittadini sarà in grado attraverso la propria capacità di imporsi nella dinamica privata di acquistarsi i servizi e la stragrande maggioranza rimarrà esclusa esattamente come è successo in quei paesi in cui si è provato a sperimentare una destrutturazione della sfera pubblica per quanto riguarda e chiudo se no chiedo scusa è stato invitato a una domanda secca e mi sono preso il microfono sulle province ma le province intanto hanno delle competenze che è necessario che un qualche livello svolga cominciamo a partire da qui per quella che è la specificità dell'Italia per quella che è la conformazione del nostro territorio per quelle che sono le caratteristiche degli enti locali è necessario che ci sia un soggetto istituzionale che si chiami come si vuole chiamiamolo asdrubale se non ci piace più la parola provincia che svolga politiche di area vasta e che sia in grado di organizzare quell'insieme di servizi che i piccoli comuni non sono da soli in grado di organizzare è necessario che ci sia un qualche livello e secondo me è difficile dire di no è molto difficile dire di no ora quanto costano le province sulla complessiva macchina burocratica facciamo un po' una considerazione di questo cenere quasi nulla c'è l'incidenza del livello provinciale sui costi complessivi della burocrazia è veramente molto modesta non ho sentito i primi interventi ho sentito Aldo Korgiat che come dire metteva il dito su una questione che dal punto di vista scientifico è nota da tanti anni ma che dal punto di vista politico è del tutto trascurata anzi quasi si ha pudore ad accennarla qual è il costo delle regioni oggi e che cosa sta capitando nel rapporto tra regione ed enti locali regioni e province e comuni sta capitando esattamente il contrario di quello che sarebbe il disegno costituzionale immaginato fin dalla prima attuazione del livello regionale e cioè le regioni enti di legislazione e di programmazione gli enti locali comuni e provincia soggetti di amministrazione e di gestione e le regioni cosa hanno fatto le regioni sono invece in maniera come dire in un primo tempo impercettibile e poi ahimè sempre più percettibile hanno cominciato a diventare soggetti gestori con una pubblica amministrazione una burocrazia che cresce e che ha dei costi questi sì molto significativi se li mettiamo in termini assoluti sul bilancio complessivo dello Stato allora si è aperta in Italia questa discussione per cui bisogna togliere un livello siccome l'unico che forse si è detto se lo togliamo il mondo continua a girare e la provincia ecco che si è caricata di una diciamo valenza simbolica assolutamente incomprensibile questa discussione sull'eliminazione delle province per poi naturalmente subito rendersi conto che ci deve essere un qualche soggetto che svolga politiche di area vasta altrimenti come si fa a organizzare in maniera efficiente creare economie di scala e soddisfare appunto le funzioni che sono state svolte dalle province fino ad ora e allora si si è inventati questo organismo e anche qui è vero ma come si può immaginare che un organismo che non è direttamente legittimato dai cittadini è in grado di svolgere una qualche funzione di indirizzo e di contenimento sui specifici enti locali è impensabile difatti in commissione affari istituzionali si comincia a dire e sono stati già depositati degli emendamenti la settimana prossima si vedrà che prevedono la reintroduzione dell'elezione diretta del presidente allora meglio tardi che mai ma certo che questa vicenda questa vicenda delle province con una legislazione adesso che è delle più come dire incomprensibili e delle più contraddittorie perché se noi prendiamo il testo com'è adesso c'è la normativa com'è ipotizzata adesso davvero è difficile cogliere una qualche come dire ragionevolezza di disegno senza contare che nell'ambito della stessa regione non si capisce qual è il rapporto tra l'area metropolitana che avrebbe autonomia statutaria e tutte le altre province che invece non avrebbero autonomia statutaria per non dire poi del fatto che con l'autonomia statutaria sarebbe forse possibile reintrodurre autonomamente forme di legittimazione diretta mentre invece per le altre province non sarebbe possibile avere nessuna diciamo è immaginabile che in uno stesso contesto territoriale ci siano livelli istituzionali con così tante differenze dal punto di vista delle competenze normative fonti sistema delle fonti dal punto di vista dell'autoorganizzazione un po' difficile trovare una qualche giustificazione a questo e poi c'è il grande tema c'è il grande tema del 119 insomma non ha nessun senso discutere seriamente di organizzazione istituzionale di livelli burocratici se prima non si stabilisce quali sono uno le funzioni essenziali le funzioni fondamentali di ciascun livello quindi le competenze usiamo così queste espressioni quali sono le competenze e due se non si dice con chiarezza sulla base di quali risorse e chi può reperire le risorse quanta discrezionalità politica si intende conferire a ciascun livello istituzionale per quanto riguarda il reperimento delle risorse questo è il grande tema c'è l'opportunità di riconoscere una qualche quota di responsabilità e quindi di discrezionalità politica nel reperimento delle risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni che poi vengono conferite a quel livello ora di tutto questo curiosamente non se ne parla e si continua a evocare l'opportunità di una non si capisce bene di quali poi conseguenze positive riduzione dei livelli istituzionali chiudo non è che negli altri paesi in Europa Francia Germania prendiamo questi due esempi che sono considerati modelli avanzati ci sia meno livelli istituzionali anzi esattamente il contrario e la vera diciamo caratteristica che c'è un'opinione pubblica che è perfettamente consapevole del formidabile valore e di quanto sia preziosa la dimensione pubblica e di quanto una dimensione pubblica legittimata una dimensione pubblica sostenuta abbia poi delle ripercussioni in termini di efficienza economica oltre che di erogazione di servizi perché all'erogazione dei servizi corrisponde poi efficienza economica e capacità di sviluppo del paese quando lei dice ah ma lì hanno dei politici apprezzabili e stimati qui abbiamo una classe io le chiedo ma scusi lei in questi ultimi dieci anni parliamo di Torino è stata una città così tanto mal amministrata è una città che è peggiorata in questi ultimi dieci anni prendiamo Settimo qui abbiamo il sindaco di Settimo con le risorse di cui dispone Settimo quanti esperimenti ha realizzato di carattere nazionale le sembra un cattivo esempio di amministrazione cioè stiamo qui cioè esistono degli amministratori onesti capaci che dedicano 24 ore al giorno cioè su questo non ci piove ci mancherebbe altro buonasera su questo non ci mancherebbe altro l'opinione pubblica però professore molto spesso è il frutto di esempi che quotidianamente vengono prospettati al pubblico alla persona comune che si presenza negli uffici pubblici alla persona comune che per mettere i pannelli deve fare 50 fogli piuttosto che un foglio autocertificativo probabilmente il foglio autocertificativo messo in Italia oggi come è stato fatto per tante cose soprattutto per le start up a volte non ha portato sempre esempi positivi non ha portato sempre esempi positivi cioè noi abbiamo avuto cioè noi abbiamo esempi quotidiani di pubblica amministrazione 107 province in Italia col carrozzone che ne consegue perché lei dirà che forse è simbolico ma oggi che la gente non riesce a pagare più neanche la boletta e la luce pensare che ci sono 107 province e di queste 107 forse qualcuna è più piccola di casa mia se mi permette o forse è più piccola del comune che il dottor Korgiat amministra la gente non ne può più la gente non può pensare di avere un professore di diritto costituzionale che parla e dice che probabilmente deve passare l'opinione o qualcuno vuole far passare l'idea che questa simbolica macchina sia da levare e destrutturare di conseguenza lo Stato Italia cioè qua c'è gente che non riesce ad arrivare a fine mese e dobbiamo avere a che fare con 107 province con i loro consiglieri presidenti e tutto il resto che ne consegue autoblu tra virgolette che poi di fatto gestiscono delle cose che non avendo risorse e questo è un altro problema vanno poi a inficiare il ruolo che hanno perché lei mi deve spiegare la provincia la provincia che va a gestire le scuole io penso che la provincia cioè quale possa essere il valore aggiunto che questo ente dà quando quotidianamente ci sono palati cioè ci sono i tetti che cadono sui ragazzini come mia figlia questa è la provincia allora organizziamo meglio le cose in modo poi non chiamiamo la provincia vogliamo chiamarle in un altro modo ma la gente stufa di avere carrozzoni di avere regioni enormi di avere province stratosferiche 107 province 107 professore veda lei sì ma se togliamo le province la sua bolletta non diminuisce aumenta guardi prendiamo il servizio della raccolta di rifiuti se non ci come dire se ci fosse un'equivalenza tra togliamo le province e il costo della raccolta di rifiuti diminuisce io sarei il primo a dire beh pensiamoci su perché allora è bene togliere ma non è così è esattamente l'opposto se non ci fossero le province il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti costerebbe molto ma molto di più perché ogni singola realtà dovrebbe far da sé e ogni singola realtà a parte che non a parte che non avrebbe probabilmente neanche le condizioni materiali per farlo perché non esiste in ogni comune la possibilità di avere una discarica di avere un'azienda che sia in grado di trattare i rifiuti come devono essere trattati quindi l'esempio dei rifiuti è un esempio diciamo che funziona a pennello la tassa il costo della raccolta dei rifiuti sarebbe più alto se noi dal mattino alla sera togliessimo le province e tutto ciò che loro organizzano poi è chiaro io non sto dicendo che questo è il migliore dei mondi possibile dico solo che tante cose vanno fatte cerchiamo di concentrare l'attenzione sulle cose più più importanti è più importante riorganizzare la regione è più importante rendere efficiente singole pratiche che non togliere le province altrimenti sbagliamo obiettivo dico solo questo ci mancherebbe mica sto facendo una difesa di quello che c'è dico però che mentre sulla regione molto andrebbe fatto e sarebbe giusto ripensare la burocrazia regionale pensare che abrogando semplicemente le province si possa avere un miglioramento io credo che insomma qualche dubbio bisognerebbe averlo solo per posso solo farvi l'esempio per seguire il ragionamento e facciare il signore poi io capisco che quando uno arriva a fine mese il primo che gli passa davanti è colpevole quindi il dibattito è anche un po' alterato dal fatto che c'è molta gente che non arriva a fine a fine mese e che quindi non è più un ragionamento diventa me la prendo con qualcuno e uno io lo comprendo ma detto ciò non è questo il modo per discutere facciamo l'esempio della scuola no faccio l'esempio della scuola così ci capiamo settimo torinese ha un polo scolastico con due qualche sono mille due mila ragazzi che vanno a scuola lì che provengono un po' da tutti i comuni attorno i costi di quel polo scolastico non ho recuperato dati ma forfettariamente non costa meno di 500 mila euro l'anno quel polo scolastico non per fare le manutenzioni per gestirlo le bollette la manutenzione ordinaria la gestione ordinaria bene è evidente che 500 mila euro l'anno a parte che non ce l'abbiamo più dovessimo domani dirci vi passiamo la competenza diciamo no grazie perché ci bastano i 3 milioni e mezzo che ci hanno tagliato a livello nazionale e quindi c'è questo problema di risorse vale per tutti è difficile scaricare su qualcun altro la spesa ma anche se fossimo un'altra condizione economica perché settimo dovrebbe spendere soldi dei suoi cittadini per gestire una scuola che fa venire cioè c'è un problema banale proprio banale che alcuni servizi hanno bisogno di una ed è complicato cosa facciamo facciamo pagare una quota al comune di Leinic quello di Volpiano quello di Revarolo che viene giù è impossibile quindi l'idea dell'ente di area vasta è indispensabile esempio ancora peggiore lei come me sarà uno che ogni tanto va in giro in macchina e scopre scopre non lasci stare scopre va in strada di montagna piuttosto esca dal centro urbano se lei viene a settimo la colpa se trova delle buche è sicuramente del sindaco ma appena esce da settimo e va su comuni più piccoli eccetera lei vedrà molta viabilità e dice ma Cristo è possibile che non riescono a giustare queste strade bene quelle strade lì sono migliaia e migliaia di chilometri che sono figlie di nessuno perché non sono strade nazionali quindi non sono dell'ANAS non sono strade della regione e poi abbiamo detto prima la regione non ha le competenze gestionali e quindi quella incredibile rete stradale della provincia di Torino è gestita da provincia l'unica obiezione sensata a un discorso di questo genere dice benissimo perché quei lavori lì non li può fare qualunque organismo che non sia più la provincia è quello che stiamo cercando di discutere ma che i risparmi contabilizzano anche quei risparmi lì è altrettanto una sciocchezza io ho sentito dibattiti in televisione dove nel conteggio del risparmio c'era anche non si faceva più una manutenzione nelle strade una manutenzione nelle scuole e i nostri figli dove li mandiamo? allora io penso che la provincia sia stata presa un po' come capo ispiratorio ho detto prima dovessi riscrivere da capo e avessi il potere per farlo metterei in discussione le regioni ma ognuno la pensa siamo tutti allenatori in Italia dicono quindi ognuno la pensa come crede stando ad oggi io credo che i cittadini vada detto con chiarezza che alcuni servizi è bene che siano organizzati nella scala appropriata questo è il punto e per organizzarla io preferisco che gli amministratori di quei soldi siano eletti da me che non nominati da qualcun altro perché nessuno ha ad esempio detto perché per lei è più facile venire qui e prendersela con me perché io vengo qui ma se lei deve prendersela con le prefetture le questure sei corpi di polizia capite che la riforma dello Stato e sono tutte cose che poi quando andiamo tutti io riconosco che ad esempio nella mia città meno male che ci sono i carabinieri perché noi non ce la faremo mai a gestire credo che abbiamo tutti apprezzato servizi come quelli del Vigile del Fuoco piuttosto che della finanza poi però quando ci interroghiamo della spesa che questo comporta ce la prendiamo con le province allora lo Stato è una cosa complessa credo che Monti bene faccia in questa situazione a cercare di trovare posso dire che però questo governo ha avuto la difficoltà di organizzare tutto in tempi brevi secondo me Monti su questo c'ha ragione indubbiamente non possiamo che dire che i tempi con cui si trattava di organizzare soluzioni immediate erano molto ristretti ma altrettanto vero noi siamo un partito politico io penso che sia bene che la parola torni alla politica che su questi temi è un po' più sensibile un po' più sensibile se prende la strada giusta e io non ci sto l'han detto molti oratori in queste sere di prendermi anche la colpa di altri eh però perché quando ci sono elettori che per vent'anni hanno votato Berlusconi e che vengono qui a dirmi eh perché è tu i vent'anni la responsabilità di aver votato Berlusconi è tua non è mia abbiate pazienza cioè c'è un limite che noi dobbiamo chiarire e adesso a quelli che eh sbraitano e pensano che tutto si risolve eh dicendo che bisogna sfasciare tutto si assumono loro la loro responsabilità io non sono per sfasciare tutto sono per capire chi non arriva a fine mese e guardi che nel mio ruolo di sindaco ne incontro veramente tanti ed è difficile eh reggere quell'impatto io non sono ricco di famiglia credo che il tema del lavoro il tema della casa dell'affitto lo comprendiamo capisco che uno che in quelle ma quasi mai sono quelli quelli che vengono a dire spesso quelli che esasperano i toni è gente che sta bene che ha dei genitori che rimantengono e che non hanno non sono quella categoria che dice lei diciamoci la verità perché quelli che hanno quelle difficoltà che vanno comprese anche se dicono le cose sbagliate delle sciocchezze io li rispetto con gli altri vorrei perlomeno discutere perché è troppo comodo mettersi davanti quello che non ce la fa più arrivare a fine mese per poter far prevalere un tuo punto di vista non strumentalizziamo le non ce l'ho con lei voglio precisarlo con chiarezza anzi capisco il suo discorso e in parte lo condivido anche così come capisco anche che bisogna dirlo a tutti i politici in questo momento in questo momento bisogna che chiunque faccia politica io sono uno di quelli che fa politica poi lavoro anche non è che vivo da un'altra parte chiunque fa politica deve rendersi conto deve riprendere quel rapporto che la politica ha avuto quasi moltissime occasioni di sintonia con un'opinione pubblica che effettivamente ha il problema l'esasperazione che dice lei e guardi che quell'opinione pubblica oggi è un'opinione pubblica secondo me che purtroppo lo dico è difficile riconquistare con un ragionamento sono d'accordo con lei è più facile conquistarlo forse con qualche esempio ma in questo momento è un'opinione pubblica ragionevolmente che non sta a sentire nessuno noi che siamo un partito è un partito che viene anche da lontano ognuno dalla sua cosa io credo che dobbiamo riprendere quello slancio quella capacità di riconquistare attraverso gli esempi attraverso le politiche concrete e anche io spero attraverso un miglioramento del clima generale perché vi assicuro che se da domani riprende un po' l'economia eccetera molti dei problemi anche di esasperazione tendono a scendere succede così in tutto il mondo quindi consapevole che viviamo un periodo molto pesante bisogna che la politica eviti di assumere atteggiamenti arroganti e anche di gente che non capisce di che cosa sta parlando io penso a molti nostri parlamentari lo dicevo anche a consigliere regionale anche amici dico non potete tirarvi fuori perché ormai la gente assimila tutti assimila anche il sindaco io che pure non centro nulla né con gli stipendi di quel per chiunque oggi faccia politica è un po' assimilato bisogna avere pazienza io penso che sia un'ingiustizia nei miei confronti lo dico molto onestamente io penso che sia un'ingiustizia nei confronti di molti amministratori che per 300 euro al mese vanno a aprire parlo di amministratori delle comunità vanno a aprire fanno mettono a posto il cimitero aggiustano le strade fanno i cantonieri e non sicuramente non ci guadagno però la gente oggi se lei ha un'associazione che gestisce volontario quel parco dice ma chissà quanto ci guadagna cioè purtroppo siamo in un periodo in cui la guerra no appunto bisogna chiedersi perché uno è la crisi l'altro è il fatto che noi dobbiamo cambiare molte delle abitudini che erano consolidate fra cui quella di avere uno stato assolutamente sproporzionato rispetto all'esigenza di oggi ed è per questo che io concludo penso che anche la discussione che stiamo facendo dobbiamo rifarla a partendo dalle utilità noi saremmo faremmo una buona cosa se i cittadini percepiscono immediatamente l'utilità del nuovo ente se invece facciamo una cosa solo in continuità dove non facciamo questo sforzo aggiuntivo io se poi magari lei mi dice ma non serve a niente io sono partito questa sera dicendo ma se ad esempio avessimo una polizia metropolitana che mette a disposizione qualche centinaio di uomini in più perché adesso sono tutti dentro a fare dentro i singoli comuni a fare i piantoni piuttosto che gli uffici verbali eccetera razionalizziamo un po' il cittadino ha un beneficio bene se riusciamo a far capire che governare la cosa pubblica possibilmente con degli eletti e non con della gente che non si capisce bene da dove arriva può portare dei vantaggi ai cittadini io credo che gran parte della critica che lei fa venga raccolta e venga messa in positivo ci sono ancora due domande anche i sindaci però a volte fanno sai Dezuan è il sindaco di Volpiano e l'unione dei comuni tu dici collegialità ma a volte c'è stato polemiche vuol dire anche a volte nello stesso PD trovare non un accordo però avere delle idee chiare per questo discorso io volevo solo dire io volevo dire questo che non bisogna perdere di vista che dietro l'attacco sistematico che c'è nei confronti della pubblica amministrazione c'è un disegno preciso politico berlusconiano di attaccare il blocco sociale della pubblica amministrazione nelle varie articolazioni istituzionali visto come il blocco di consenso del centro-sinistra quindi diciamo questo questo aspetto e purtroppo questa campagna ha invaso anche il nostro campo perché vediamo come nell'opinione pubblica anche del centro-sinistra si sia come dire determinato uno stato di sfiducia che le bocche di fuoco del berlusconiano hanno alimentato in questi anni perché sottraendo risorse o screditando la pubblica amministrazione che è il blocco di consenso del centro-sinistra si sottraggono delle risorse alla pubblica amministrazione e quindi meno spesa pubblica magari dirottate dirottate verso il settore privato che delle imprese che è il blocco del consenso del centro-destra secondo me questo questo aspetto non va tralasciato a di là dei problemi sicuramente che ci sono delle inefficienze delle irrazionalità di gestione che nella pubblica amministrazione vediamo ma questo aspetto bisogna che venga tenuto presente Anna Prat Anna Prazzi direttrice di Torino Internazionale Torino Strategica che è un'associazione che esiste da 2000 che ha una caratteristica mette insieme in modo volontario 87 soci circa di livello metropolitano credo che in questo siamo abbastanza speciali perché è un'associazione che ha nella propria missione di definire le visioni di sviluppo della città attraverso dei piani strategici insomma non sto a dirvi a livello metropolitano noi questo dato ce l'abbiamo da sempre io quindi questo il tema del tornerei un attimo al punto del dibattito area metropolitana e città metropolitana esistono come dire analisi infinite su che cosa voglia dire è forse l'unico ente territoriale che ha una definizione scientifica di che cos'è questo lo noterei perché rispetto a stato regione provincia che hanno definizioni storico-politiche l'area metropolitana anzi la città metropolitana ha una definizione ben precisa ed è caratterizzata da aspetti funzionali e morfologici cioè gli politologi si sono ammazzati per 10-15 anni in questo paese per definire dove finisse l'area metropolitana torinese allora questo è un caso abbastanza unico perché le province sono state fatte con la cetta da quello che io so le regioni hanno origini più o meno storico-politiche l'area metropolitana la città metropolitana si definisce in base a innanzitutto i flussi di pendolari ok diciamo mi spiace dico forse alcune cose però importanti cioè è l'area del pendolarismo diciamo l'80% dei pendolari 70% si può dare una definizione ben precisa e dire dove finisce quali comuni stanno dentro quelli della prima cintura della seconda in genere va un po' oltre la seconda cintura poi è funzionale nel senso dei servizi che fornisce e delle economie di scala e di agglomerazione di questi servizi cioè conviene gestire alcuni servizi a livello di questa area metropolitana non vado avanti ma tutte le motivazioni che ha detto abbastanza Aldo Korgiat sono importanti cioè sono gestionali sono di efficacia efficienza cioè ci sono alcuni servizi alcune politiche che si fanno meglio a livello metropolitano i trasporti l'abbiamo imparato i rifiuti lo impariamo ma anche i servizi sociali anche le trasformazioni urbane tutta una serie di cose si farebbero meglio a livello di area metropolitana quindi l'area metropolitana è la definizione la città metropolitana diventa il governo arriva una domanda perché se no mi perdo è una domanda un po' per il PD cioè a breve si discuterà dello statuto della città metropolitana allora accettiamo che il governo nel caso della provincia di Torino l'ha sbagliata perché dire che la città metropolitana include le valli noi lì proprio non ci siamo cioè in qualsiasi parte d'Europa quando andremo a dire che la città metropolitana include la Val Chisone la Val Chiusella anche la Val di Susa anche la Val di Susa quella roba lì non è città metropolitana ok quindi purtroppo partiamo un po' col piede sbagliato bisognerebbe capire che per le altre province per cui si sta facendo questo discorso vale perché Milano va molto bene alla provincia infatti la provincia di Milano lavorava per fare la città metropolitana lavora a livello di provincia Venezia va abbastanza bene Firenze addirittura vorrebbe fare la più grande eccetera eccetera per noi non va tanto bene quella cosa allora noi che siamo un ente che ha nella propria missione veramente il mandato metropolitano e che io credo di condividere col sindaco di Settimo mi chiedo se quando si farà lo statuto di questa cosa bisogna tenerne conto perché se no tutto il ragionamento sulle funzioni metropolitane e sull'area morfologica metropolitana che è quella costruita quella che più o meno anche un bambino potrebbe tracciare ovvio che ci sono dei comuni sta dentro sta fuori ma non va fino alle valli non va fino a quel comune ecco non va di sicuro fino a lì allora vi chiedo che nella prossima riflessione sullo statuto e sulle funzioni e sull'organizzazione l'assetto organizzativo della della città metropolitana comunque venga definita questo se ne tenga conto ci sono due livelli all'interno e sarà molto difficile perché a quel punto l'altro livello quello delle valli è difficile da regolare quindi lascio solo questo appunto io sono un po' contento di aver sentito parlare di questo progetto che noi diciamo quelli che hanno la mia età almeno perseguono da più di 50 anni alla legge su area metropolitana era già arrivato anche il governo precedente aveva fatto una legge c'è forse una o due città diverse nell'elenco delle 12 però c'era persino un articolo che diceva che se entro un anno non veniva formata il governo mandava un la delega o un ente ben preciso ciò nonostante non si fa allora secondo chi ha provato a occuparsi di questo problema è sempre stato colpito dal fatto che la grande direi lo grande sforzo del capitale contro il lavoro è proprio quello di decidere i destini delle aree adesso che contemporaneamente c'è una legge di un ministro che per salvare il paesaggio dice che bisogna rendere inedificabili tutte le aree agricole a me sembrerebbe una cosa da suggerire sia al provincia di Torino che al comune di Torino di portare un appoggio a questa legge perché l'area metropolitana non è solo una serie di deleghe o la creazione di determinate funzioni ma è anche un progetto progetto come era il progetto 80 per l'Italia settentrionale progetto come sono stati anche a suo tempo alcuni parziali visioni metropolitana borsetto per fare il nome che tutti sappiamo e possiamo anche e a questo dovremmo arrivare dare i voti a chi ha lavorato in questi 50 anni per arrivarci e a chi ha impedito perché questo giudizio politico noi dobbiamo dare grazie grazie volevo ricordare alla sollecitazione ultima sulla legge che tutti noi condividiamo che la provincia di Torino col piano territoriale di coordinamento ha previsto la medesima cosa cioè della inadificabilità nelle aree agricole tanto è vero che la provincia di Torino è diventata famosa alle cronache per aver dato il diniego all'IKEA di costruire su un'area agricola nel comune di La Loggia vorrei non solo per l'intervento della dottoressa Pratt che immagino abbia letto la legge per le cose dette è chiara noi a gennaio 2004 comunque si fa per forza la metropolitana 2014 scusate si fa per forza perché c'è lo scioglimento delle province quelle funzioni vanno da qualche altra parte la legge sulla determinazione della area ha già deciso lo statuto non potrà modificare questa cosa nel senso la legge dice sono trasformate in area metropolitana tutti i comuni che oggi sono i 315 comuni al massimo i comuni di confine chiaro che quelli che confinano con la Val d'Aosta ci proveranno ma la vedo difficile ma a ovest a est abbiamo sicuramente qualche comune che può decidere andare a Oasti o Cuneo alla fine l'area metropolitana è quella roba lì è al massimo un comune di confine può decidere se andare in un'altra provincia quindi bisogna prendere atto che quella scelta è fatta ed è operativa seconda cosa io condivido che i servizi vadano da questo punto di vista condivisi nella scala ma attenzione che molti dei servizi che oggi verranno trasportati dall'area metropolitana dalla provincia dell'area metropolitana oggi sono già di area provinciale le strade sono di area provinciale la viabilità le scuole sono di area provinciale oggi ad arrivare a Susa boh ci metti mezz'ora arrivare a Milano ci metterai questi termini da questo punto di vista anche del pensiero dei politologi come veniva citati si sono un po' datati che forse vanno visti e collocati posto per posto per come si è volso allora bisogna evitare di ripartire dal dibattito da dove l'avevamo lasciato vent'anni fa bisogna in qualche modo che però la politica si attrezzi molto velocemente sapendo che le istituzioni contemporaneamente in questa area hanno già fatto delle scelte ricordava Fregolen prima sarebbe stato sbagliato avere un piano territoriale di coordinamento sull'urbanistica se noi avessimo ragionato esclusivamente sul primo circondario perché in verità oggi questo territorio mette insieme funzioni che sono funzioni più ampie che la classica area metropolitana disegnata negli anni 80 quindi io penso che bisogna ripartire da quel che è stato deciso la legge ha degli elementi di confusione a partire dal sistema elettorale ma su alcune cose precise tocca a noi in qualche modo riempire di contenuti io non sono per levare degli pezzi bisogna aggiungere dei nuovi da questo punto di vista bene penso che abbiamo approfondito il dibattito io ringrazio anche gli interventi delle persone che sono intervenute dal pubblico in particolare il signore che adesso non vedo più che raccontava la difficoltà di arrivare a fine del mese e avere 107 province quello che è stato fatto in questo periodo in particolare dal presidente Salita della provincia di Torino è non difendere le 107 province negli anni 80 c'è stata ma anche prima l'ubriacatura del fatto che le stesse persone che oggi chiedono l'abolizione delle province pensiamo in primo luogo a un confindustria erano quelle che promuovevano la nascita di nuove province perché voleva dire avere degli uffici periferici dello Stato e creare lavoro risorse si è capito che creando dei gusci vuoti e delle province grandi quanto delle micro noci di cocco si è portato praticamente non quella utilità di aria vasta che invece una provincia grande come quella di Torino ma non solo come Roma Milano insomma hanno provato noi con la massima onestà quando siamo andati a parlare con il governo abbiamo portato dei conti che dicevano che le province hanno un senso se sono ampie per questo che continuiamo a fare una lotta di onestà intellettuale è ovvio che c'è un problema questo è innegabile di etica che è un problema che riguarda tutti le auto blu che citava il signore probabilmente non sono della provincia di Torino se non in capo al presidente Saitta però quando poi uno legge sui giornali che è il pari del mio vicino di sedia di Catania all'auto blu e con quella ci accompagnava i figli a scuola è ovvio che l'esempio negativo colpisce tutti come l'esempio negativo del politico amministratore colpisce tutti sta a noi come partito democratico porre l'eticità in primo luogo senza scomodare i vecchi del passato ma guardando avanti in primo luogo e sta a noi probabilmente scegliere una classe dirigente che ci governerà al paese diversa da quella che fino adesso ci ha visto insomma governati con anche un po' di super felicità chiudo dicendo che quando Monti in diretta abrogò le province e poi disse che faceva la riforma delle pensioni ha fatto ovviamente una dichiarazione d'effetto perché colpire un ente che veniva considerato inutile per poi dare la mazzata ai cittadini e mi è sempre venuto in mente un bellissimo film di Troisi non ci resta che piangere dove con Benigni cercano di spiegare al grande Leonardo come fare una ferrovia e non ci riescono come fare la lapadina e non ci riescono poi gli insegnano di giocare a scopone scientifico e non ci riescono e dicono e pensare che era un genio io quando ho sentito Monti a fare quella dichiarazione ho detto e pensare che è un tecnico arrivederci